musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyudea e oggi ragazzi parliamo subito della nuova sfida della settimana numero 2 di fortnite ne abbiamo viste alcune già presenti quella di prendere dei chest nei luoghi nominati quella di ballare nella discoteca segreta sotto alla base dei supereroi ma oggi ragazzi vediamo le due posizioni delle tastiere dove bisogna suonare ovviamente la partitura la prima ragazzi la conosciamo in realtà di già intanto vi ricordo subito una cosa ragazzi importantissima potreste dover cercare gli spartiti prima di suonare la partitura non vi preoccupate perché qua nei commenti il primo commento sarà il mio dove vi indicherò la posizione esatta dello spartito da recuperare qualora fosse necessario per completare la sfida come vi stavo dicendo ragazzi la prima tastiera è semplicissima eccola qua abbiamo già visto la scorsa season e anche la partitura è facilissima basta solo saltarci sopra o passarsi e g c dov'è di jingle bell ragazzi e la prima e per la seconda partitura ragazzi dovremo andare invece proprio qui vicino più o meno alla casa dei supereroi come state vedendo tra la casa e rifugio ritirato è stata inserita con la nuova patch il nuovo la nuova tastiera ragazzi ed eccola qua meravigliosa attenzione che questa è un po più difficile ragazzi è molto più lunga vi do subito un consiglio guardate bene ci sono le lettere nei tasti con i cerchi e con i quadrati attenzione allora c c c c f f f f e f g a a con l'asterisco va bene ragazzi vi ricordo guardate nei commenti se dovessimo cercare degli spartiti vi scriverò la posizione esatta vi ringrazio per aver guardato questo video un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 Grazie a tutti.